Musica Ciao ragazzi, questo è il secondo video che faccio sulle donazioni che mi sono arrivate in questi pochi giorni abbiamo raggiunto già quota 340€, il 34% ovviamente di ciò a cui aspiro ma ovviamente come vi ho detto spero solo di recuperare i soldi della fotocamera che mi hanno rubato che appunto mi serve per lavoro, vi ripeto questa con cui sto registrando me l'hanno prestata infatti faccio più video al giorno e poi la restituisco purtroppo ma vi vado a leggere quali sono le persone che hanno partecipato quest'oggi quindi volevo anche dirvi che un ragazzo sbagliato ha fatto una donazione su Kickstarter che è il primo sito a cui ci siamo appoggiati io e i ragazzi che abbiamo effettuato questa campagna di raccolta fondi non fate lì le donazioni ma fatele sul link che vi lascio qui sotto in descrizione ovviamente questo video è fatto per entrambi i canali quindi per GameZain ed AppleZain sempre qui sotto in descrizione vi lascio i rispettivi canali per vedere ciò che faccio da una parte e dall'altra allora inizio subito ringraziando DJ Razio23 non c'è scritto il nome e cognome purtroppo ma lo ringrazio tantissimo per la sua donazione abbiamo poi Chiara Dolcini che è tra virgolette il mio avvocato cioè nel senso con lei che cura la parte legale di ciò che è il mio lavoro e che mi ha aiutato tantissimo in questi anni e soprattutto è una mia grande amica e più che altro diciamo è la parte affettiva che mi lega a lei che ha donato anche lei quindi la ringrazio tantissimo per questa donazione c'è una donazione anche da Andrea Tosi che ringrazio da Giovanni Liguori che è un altro ragazzo del mio staff che lavora con me che ringrazio tantissimo anche a lui che ha contribuito a questa raccolta fondi e la cosa che mi lascia più di stucco è che le persone a cui voglio bene e che mi vogliono bene mi stanno aiutando di solito si dice che si vede la vera amicizia nel momento del bisogno e questo è uno di quei momenti e sto vedendo davvero il supporto di tutti ringrazio anche Giulia Spano che è un'altra ragazza che lavora con me e amministratrice del sito AppleZain.net insieme a me e anche lei ha donato quindi la ringrazio davvero tanto ha donato anche Alessio Cherchi che ringrazio e poi ha donato Francesco Milella che ha fatto una grande donazione e lo ringrazio davvero tanto perché è una delle donazioni più costose che ho ricevuto e quindi grazie veramente di cuore Francesco è arrivata anche una donazione di Pierpaolo Pettinato che anche lui ringrazio davvero tantissimo perché è una donazione grande 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 grazie veramente Pierpaolo ha donato anche Max2323 purtroppo non c'è scritto il nome e cognome che ringrazio anch'esso per la donazione ha donato anche Eros Scribano ti ringrazio anche Matteo Ranzan spero di aver letto bene ha fatto una grande donazione grazie davvero Matteo per questo gesto ringrazio anche Alessandro Rossi per la sua donazione generosa Davide Drago che è un ragazzo che mi segue tantissimo insieme ad altri che ho elencato qui ma con l'emozione purtroppo mi dimentico di ringraziare specificatamente tutti ma compatitemi ragazzi ringrazio anche Filippo Rizzo Rapparziale che purtroppo non c'è messo il nome e cognome ti ringrazio anche a te ed infine ringrazio Gian Maria Maresca io ragazzi vi ringrazio tantissimo se in due giorni, quasi tre, abbiamo raggiunto 340 euro non oso immaginare fino alla fine di questa campagna che dura 30 giorni perché il sito mi ha concesso questa tempistica non oso immaginare quanto riusciremo a raggiungere quale quota riusciremo a raggiungere io vi ripeto, non punto a tutta la cifra punto almeno alla metà perché è quella la cifra che mi permetterebbe di ricomprare una fotocamera decente che è quella che utilizzavo appunto nelle riprese mie quindi ragazzi vi ringrazio davvero tanto vi lascio qui sotto in descrizione se volete continuare a donare ho visto che molte persone che hanno già donato hanno ridonato e questo ragazzi mi fa davvero piacere è qualcosa che non riesco a concepire cioè non riesco a farmi convinto di questo affetto perché è difficile solitamente che quando una persona ha bisogno tutti arrivino cioè che tutti arrivino a soccorrere cioè tutti arrivino sul cavallo bianco a dire cavolo aiuto questa persona invece sta succedendo proprio questo sto ricevendo tantissimo affetto e ragazzi vi assicuro che questo mi sta spronando a ricominciare da capo questo mi sta spronando ad arrivare al mio traguardo per raggiungere questa cifra e rifare tutto ciò che facevo prima ma con dieci volte di più la volontà che avevo prima perché ve lo devo ragazzi ve lo devo questa vostra generosità sarà ripagata ve lo prometto e anche se molti mi hanno detto che l'ho già ripagata in passato con tutto ciò che ho fatto per sette anni vi assicuro che farò altri sette anni e molti di più di questo di questo lavoro e risponderò sempre a tutti aiuterò sempre tutti questo ve lo prometto ragazzi soprattutto perché l'ho sempre fatto e questa generosità mi fa capire che devo continuare a farlo io ragazzi vi saluto vi ringrazio per aver visto questo nuovo video iscrivetevi mettete un mi piace fatemi sapere se ci siete se avete se siete nel video se avete donato proprio adesso o ieri o domani iscrivetevi qua sotto nei commenti perché voglio ringraziarvi come ho detto nel precedente video tutti uno per uno e come ho già fatto nel precedente video quindi vi ringrazio ancora una volta ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui con Mirko o Zain in base a che il canale siete ciao 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 Grazie a tutti